Al Signore, al Signore Gesù Cristo, ancora quest'altro giorno di meravigliosa grazia che Lui mi dà per lodarlo e benedirlo veramente nella semplicità. Il Signore non chiede veramente chissà quali bravure, ma chiede il nostro cuore. E lo volevo ringraziare con un canto, il cui titolo è, appunto, Isaia 53. Leggerò alcuni versetti di questo capitolo meraviglioso scritto da Isaia. Il profeta Isaia 750 anni prima della venuta di Gesù, fisicamente. E Lui dice questo, dice, chi ha creduto alla nostra predicazione, a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su davanti a Lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare ai nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure, egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percorso da Dio umiliato, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di Lui e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via. L'Eterno ha fatto rigadere su di Lui l'iniquità di noi tutti, ma al trattato e umiliato non ha perso la bocca. Come un agnello condotto al macello, come una pecora muta davanti ai suoi tassatori, egli non ha perso la bocca. Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio, e della sua generazione. Chi riflettè che era stato strappato dalla terra dei viventi, è colpito per le trasgressioni del mio popolo. Gloria a Dio. Anche qui, mi ricordo un episodio negli Atti degli Apostoli, quando un eunuco, un ministro di Candace e chiese, leggeva questo verso, e Filippo gli spiegò, praticamente, che qui parlava di Gesù. Delle sofferenze del Cristo. Alleluia. Il nostro Gesù, tutto quello che è stato scritto l'ha vissuto. E quella è la nostra parte adesso. Cosa Lui richiede da noi? Che riconosciamo veramente tutta questa grazia che abbiamo. E lo odiamo. Siamo riconoscenti a Lui per la meravigliosa grazia che ci ha fatto. Perché Lui è il nostro sostituto. Sulla croce sarei dovuto salire io, perché portavo i miei peccati. Ma Gesù ha vinto. Alleluia, al posto mio. E io ho la libertà in questo momento di lodarlo e benedirlo anche con Te. Dio ti benedica grandemente. Ti faccio realizzare il grande amore del Tuo Gesù. Amen. Questa è la mia fede di credere in un sogno mio. Questa è la mia fede di credere in un sogno mio. che è la mia fede di credere in un sogno mio. Lui era la mia fede di credere in un sogno mio. Lui era la mia malattia. Lui era il mio peccato e il mio dolore. Lui era la mia fede di credere in un sogno mio. Lui era la mia transgressione, la mia solitudine, le mie paure. Lui era la mia fede di credere in un sogno mio. Lui era la mia fede di credere in un sogno mio. Lui era la mia fede di credere in un sogno mio. Lui era il mio soldato cu казerto sinistratOo melissen Chris. lui era la mia fede La mia fede intenzione aj Yea Shalm Lui portava le frustate, mi cedeva sul corpo e pure Lui era la mia malattia, Lui era il mio peccato e il mio dolore Lui era la mia trasgressione, la mia solitudine e le mie paure Lui portava